Il concorso ormai ha preso piede a livello nazionale perché siamo al quindicesimo anno, è nato da un'idea di Franco Signoretti durante un viaggio di vacanza insieme a noi, al gruppo del Porto e siamo andati avanti con aspettative che onestamente arrivare a questi livelli non ce le aspettavamo. Il concorso è estemporaneo, quindi quello che si vede direttamente al Porto di Pesaro si dipinge, i quadri devono essere riportati entro le 16 del giorno stesso di sabato e alle 19 è prevista la premiazione sotto il salone del Porto nel campo da basket come ogni anno del resto. Sono previsti premi importanti, il primo premio sono 700 euro, il secondo 4,50, il terzo premio sono 250 euro e poi c'è un premio speciale in Maccorvo di 300 euro. Quest'anno abbiamo aggiunto altri 7-8 premi da 200 euro l'uno a ex equo, quindi dal quarto premio in poi ad ex equo vengono premiati gli 8 quadri dalla giuria ritenuta i migliori. E' possibile iscriversi fino al giorno del concorso presentandosi direttamente in segreteria in via Cecchi 22 oppure si può andare sul sito www.quadelport.it a tirare giù la scheda di iscrizione e presentarsi il giorno del concorso. E' possibile anche iscriversi telefonicamente, telefonando al 348 40 35 875. Ci sono dei premi anche per i 10 migliori under 14 che sono dei buoni spesa da 30 euro l'uno.